benvenuti sul mio canale oggi farò vedere questo qua per prima cosa ne serve ne faccio vedere uno dopo vi faccio vedere come si muoventa si prende un po il quadrato diagonale verticale o risontale non ci prende un po il quadrato Poi prendiamo questo lato e lo mettiamo qui al centro Tutte e quattro Capovergiamo, prendiamo questo lato facendo in modo che questo triangolo esce così Facendo così Cioè vedi? Io l'ho fatto uscire Questo qua deve essere uscito Stesso il lavoro di qua Quindi Appendiamolo E E si fa una bella applicatura così Poi Si fa lo stesso dato anche di qua Quindi In modo che il triangolo esce un po' E qui E qui Una bella applicativa Così Questo può essere sempre fuori Quindi Ci si lavora di qua Così Poi Si ritorna dentro Lo mettiamo dentro Si prende Questo qua si alza E si prende questi triangolini qua Si mettono dentro Si mettono dentro Così Uno E due E si piega giù Una volta Questa legatura Si mettono dentro Si mettono dentro Si mettono dentro Si mettono dentro Dove E si mettono dentro E se mettono dentro si apre leggermente anche di lato formando il classico quadrato in modo che aggerisce e siamo arrivati a questi qua, questi si piega in su, di sicuro questi qua saranno più corti di queste di questi un po' di leggermente modifica è già perfetto ok di queste qua ne servono sei che io le ho già fatte. Come si uniscono? Le prendiamo uno, avete notato che qua dentro c'è un taglio e si mette il triangolo dentro così vedete che dentro poi si pende un attimo questo e si mette questo e si allarga un po' non tantissimo e si mette qua sopra in modo che entra poi si pende questo e si allarga leggermente senza romperlo e si unisce tutte e quattro in modo da formare si aderisce pian pianino in modo che questo va così, questo va così, questo va così, questo va così si prende questo l'ultimo, si allarga leggermente e si fa il coperchio delicatamente se si fa il coperchio delicatamente se si fa il coperchio scusate per il colore scusate per il colore è un po' diverso del colore degli altri però perché ne avevo solo questo colore quindi adesso il pian pianino si fa il corteccio dentro e il gioco è fatto